Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e oggi un nuovo video a tema Harry Potter, ma prima di cominciare come al solito vi ricordo che su Pampling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete sempre un paio di calzini in omaggio e il codice sconto è cumulabile con tutte le iniziative in corso sul sito. Oggi indosso questa nuovissima maglietta a tema Harry Potter con le 4 case, le mascotte delle 4 case, mi piace tantissimo e la trovate ancora disponibile sul sito e ragazzi vi ricordo che oltre alle magliette trovate anche i calzini, i poster, costumi, zaini, bottiglie, trovate davvero di tutto, di tutti i fandom. Detto questo vi ricordo anche che in infobox trovate il link alla mia vetrina Amazon dove acquistando qualsiasi cosa tramite uno dei miei link sosterrete il canale. Detto questo bando alle ciance e cominciamo. Ragazzi nell'ultimo mese, mese e mezzo Salani mi ha inviato davvero tantissime cose e io non smetterò mai di ringraziarli e ve le ho già mostrate in parte su Instagram, quasi tutte devo dire, quindi qualora non mi seguiste ancora Antonio.seria trovate tutto in infobox, però volevo parlarvene meglio qui su YouTube. E quindi cominciamo dal recuperare le cose di Natale. Il primo volume che voglio mostrarvi è questo qui, Natale a Hogwarts in collaborazione con Lego. Questo è un volume molto molto carino, naturalmente il pubblico di riferimento è quello junior, quindi per i bambini, i ragazzi, però lo trovo molto molto interessante perché troviamo in allegato al suo interno una minifigure di Lego, abbiamo in questo caso Harry in versione ballo del ceppo. Io ho già questa figure perché era inclusa in uno dei calendari dell'avvento Lego degli anni passati, credo proprio quello dell'anno scorso se non ricordo male, ma la cosa molto molto carina è che al suo interno troviamo delle storie a tema natalizio e queste storie sono tutte realizzate utilizzando quello che abbiamo trovato nei calendari Lego in questi ultimi tre anni. Quindi è possibile volendo andare a ricreare tutti i vari scenari con le cose che abbiamo trovato al suo interno. Lo trovo davvero molto molto carino, naturalmente ci sono delle storie a tema natalizio tratte da ognuno dei film di Harry Potter ed è davvero ben realizzato, la qualità è altissima, molto colorato, abbiamo anche i personaggi che parlano attraverso delle vignette, quindi in stile fumetto. Lo trovo davvero molto molto carino e sicuramente sarebbe davvero apprezzato da chiunque, da qualsiasi bambino, quindi sarebbe davvero un ottimo regalo per i più piccoli che si approcciano magari da poco al mondo di Harry Potter. Quindi ve lo straconsiglio. Questo è edito appunto da Salani e ve lo lascio linkato in infobox. Invece nei primi giorni di dicembre i ragazzi di magazzini Salani mi hanno inviato questo volume, che in realtà è già disponibile dall'anno scorso ma che non avevo avuto modo di recuperare e sono stati così gentili da inviarmene una copia proprio a fine novembre, primi dicembre, quindi ho cominciato l'avvento con questo calendario in parallelo a quello di Lego. Io ho realizzato l'unboxing e diciamo il reveal di ogni casellina durante il periodo natalizio, quindi io il primo dicembre ho cominciato ad addobbare l'albero che è incluso con questo libro. Infatti si tratta di un libro pop-up che una volta aperto ecco che fa saltare fuori un intero albero di Natale. Eccolo qui in tutto il suo splendore e abbiamo poi sul davanti tutte le caselline qui nella parte destra e sinistra del libro e in queste caselline vanno a nascondersi tutti gli addobbi. Ad esempio in questo caso abbiamo lo stemma di serpeverde che poi possiamo andare ad appendere nel nostro abberello e il 25 dicembre troviamo anche la stella da mettere in cima. A me è piaciuto davvero tantissimo, trovate le storie in evidenza su Instagram, quindi potete vedere tutte le caselline lì su Instagram e ogni giorno io andavo ad appendere qualcosa nell'albero. È davvero molto molto bello, può essere riutilizzato all'infinito e potete nascondere all'interno delle caselle gli addobbi sempre in modo diverso. Ogni anno smontate l'alberello lì sparpagliate all'interno delle caselle così ogni anno è sempre una sorpresa. Non sapete mai cosa trovate all'interno di ogni casella. visto che potete mescolarli come volete. E altra cosa super interessante abbiamo qui in alto una casellona extra con un volume interamente dedicato al Natale ad Hogwarts che è davvero molto molto carino. Quindi anche questo volume è super consigliato, davvero molto bello naturalmente sia per i grandi che per i più piccoli edito da magazzini salani e vi linko anche lui in infobox. Ma adesso archiviata la sezione natalizia passiamo a questo che è un volume che mi è appena arrivato e che è da acquistare secondo me adesso subito e vi spiego perché. Questo volume si chiama Harry Potter un anno magico e il sottotitolo di questo volume è molto eloquente un pizzico di magia al giorno dalla saga di Harry Potter con le illustrazioni di Jim Kay. E diciamo da qui avete già tutto un po' chiaro. Questo è un libro che è davvero ben fatto perché io l'avevo visto solo online non l'avevo ancora acquistato e salani è stata così gentile da inviarmi una copia e ragazzi lo trovo davvero molto molto bello. Un acquisto assolutamente da fare per i collezionisti perché oltre ad essere davvero ben realizzato quindi è un cartonato, le pagine sono di altissima qualità si tratta di un volume che racchiude al suo interno ben 366 citazioni tratte dai libri di Harry Potter dall'intera saga e abbiamo anche tantissime immagini, illustrazioni tratte dai primi quattro volumi illustrati da Jim Kay quelli che già abbiamo ma troviamo anche dei bozzetti che invece sono inediti e quindi questa è una cosa molto molto interessante. In poche parole, in cosa consiste questo libro? È un libro diviso in mesi quindi si va da gennaio a dicembre questi sono i capitoli e all'interno di ogni mese abbiamo ogni giorno una citazione diversa. La cosa bella è che oltre alle illustrazioni che accompagnano le citazioni ogni estratto del libro è ben diciamo si amalgama all'interno del mese in modo coerente e vi spiego meglio ad esempio il giorno di San Valentino troverete una citazione tratta dei libri che fa riferimento all'amore a San Valentino nel mese di dicembre troverete ad esempio in quel caso tutte le citazioni tratte dai capitoli a tema natale quindi troverete citazioni della famiglia Weasley il giorno di Natale troverete il primo Natale di Harry davvero tante tante belle citazioni e poi le illustrazioni sono ovviamente coerenti con il tema quando saremo nel mese di giugno troveremo le citazioni della fine dell'anno scolastico e naturalmente invece a settembre troverete quelle di inizio anno scolastico quindi ogni citazione è messa al punto giusto e quindi è molto molto piacevole ogni giorno andare a leggere utilizzando magari questo segnalibro qui molto carino in rosso e quindi segnare la pagina si potrebbe mettere tranquillamente in camera su un leggio e ogni giorno sfogliarlo come se fosse un calendario quindi ogni due o tre giorni cambiare le pagine e andarsi a leggere ogni giorno la piccola citazione così da avere un pizzico di Harry Potter nella nostra vita tutti i giorni io lo trovo davvero molto molto bello molto elegante molto rifinito ed è un volume che mi piace io avevo dei dubbi vi dico la verità credevo fosse semplicemente un collage di immagini che già avevamo visto sugli altri libri di Jim Kay invece ci sono moltissimi bozzetti moltissime illustrazioni nuove e questa cosa del calendario diviso mese per mese mi ha stregato quindi ve lo stra stra consiglio un libro da acquistare e da regalare assolutamente approvato quindi anche in questo caso link in infobox e poi altri due volumi che mi ha sempre inviato Salani in questo mese si tratta di uno sempre di magazzini Salani che è il libro di cucina ufficiale ragazzi ufficiale credo sia il primo perché ne giravano altri che non lo erano ufficiali con oltre 40 ricette incantate e in questo libro al suo interno non troviamo le classiche cose che magari ci si aspetterebbe come la burro birra o la cioccorana o gli zuccotti di zucca no troviamo delle ricette che richiamano il mondo di Harry Potter troviamo le bacchette magiche troviamo i manici di scopa troviamo il castello di Hogwarts troviamo i biscotti da poter fare a Natale a tema Harry Potter quindi ad esempio questi qui con i maglioni di Harry e Ron o gli occhiali di spettrofoli di Luna ma troviamo tantissime tantissime altre ricette dolci e salate sono divise per categoria che richiamano il mondo di Harry Potter e quindi si potrebbe allestire un intero pasto dall'antipasto fino al dolce tutto a tema Harry Potter magari per un compleanno a tema o per una festa a tema per una visione di gruppo ci sono davvero delle idee molto semplici ma anche alcune più complesse da poter realizzare per allestire un banchetto totalmente a tema e la ciliegina sulla torta di questo libro secondo me è anche la classificazione delle ricette che tiene conto appunto anche dei vegetariani, dei vegani e delle ricette senza glutine quindi aprendo l'indice troviamo accanto ad ogni ricetta dei simboli e riusciamo a capire in mezzo secondo quale ricetta va bene anche per i vegani quale per i vegetariani e quale ricette possono essere realizzate senza glutine quindi lo trovo davvero molto inclusivo da questo punto di vista ed è un prodotto davvero ben fatto totalmente a colori pieno di immagini io ve lo straconsiglio come ricettario qualora soprattutto doveste organizzare una cena o una festa a tema Harry Potter davvero super super consigliato e ragazzi ultimo volume sempre di magazzini salani che quest'anno si è sbizzarrita abbiamo questo qui il mondo magico il libro Paper Cut al suo interno abbiamo quattro scenari interamente intagliati è in 3D ma non in pop-up 3D ma sono degli scenari realizzati su vari livelli che una volta aperti vanno a distanziarsi l'uno dall'altro e realizzano appunto questa vista in profondità non so come spiegarvelo meglio ma naturalmente dalle immagini starete già capendo e ognuno di questi scenari ognuno di questi scenari è dedicato a una delle case di Harry Potter infatti ne abbiamo uno rosso con grifondoro uno verde uno blu e uno giallo per tasto rosso quindi uno per ogni casa è davvero molto molto bello questo è il secondo volume di questa serie e ce n'è anche un altro dedicato alle creature fantastiche vi lascerò anche in questo caso tutti i link sotto in info box ma è davvero molto molto bello molto interessante e soprattutto realizzato davvero da Dio perché abbiamo tutti questi fogli di carta intagliati alla perfezione e ragazzi l'effetto visivo è davvero bellissimo credo che non renda bene dalla videocamera ma qualora magari capitaste in libreria e doveste vedere questi volumi esposti ragazzi sfogliateli dategli un'occhiata perché sono davvero da prendere e portare a casa hanno questo formato orizzontale molto molto carino un po' difficile da mettere in libreria devo dirvi la verità ma ormai ho libri di tutte le forme e quindi anche questo troverà il suo posto che dire ragazzi io ringrazio ancora tantissimo Salani per avermi mandato tutti questi volumi durante questo mese e arriveranno anche tantissime altre novità e ragazzi mi raccomando vi ricordo che a brevissimo arriverà anche in Italia grazie a Salani la versione di Mina Lima della Camera dei Segreti è già in preordine quindi la trovate sotto in infobox vi lascio il link e consiglio spassionato preordinatela adesso perché se tanto mi dà tanto questa edizione andrà a ruba nel giro di pochissimo e poi dovrete aspettare le eventuali ristampe quindi ordinate la adesso se la volete così vi garantite la vostra copia perché una volta arrivato il giorno del lancio probabilmente sarà già sold out su Amazon ma anche negli altri store quindi non tergiversate prenotatela detto ciò ragazzi io a questo punto voglio sapere sotto nei commenti qual è il vostro volume preferito tra quelli che vi ho mostrato quale possedete già se li acquisterete sono davvero molto molto curioso voglio sapere anche se mi consigliate di recuperare il primo volume di questa serie ma so già che è così e ragazzi mi raccomando seguitemi su Instagram antonio.seria lasciate un mi piace commentate condividete il video con i vostri amici e a me non resta che darvi appuntamento a prestissimo con tante altre novità ciao 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 Grazie a tutti.